Non ci sono ancora dati ufficiali, ma il sindaco Ghinelli tramite il suo profilo Facebook esulta quando una città è piena di turisti, seppur ci sia sempre qualcosa da migliorare, il merito è sempre di tutta la città. È indubbio che anche in questi giorni di Ferragosto la città sia stata piena di visitatori, il solito mordi e fuggi, ma sicuramente a vista d'occhio in modo superiore rispetto agli altri anni. Nel giorno di Ferragosto Piazza Grande è ancora senza tribune, era davvero gremita. A far festeggiare il sindaco è un dato pubblicato dal quotidiano La Nazione che cita il numero di presenze nel punto turistico privato delle scale mobili. A luglio di quest'anno sono stati calcolati oltre 10.000 passaggi con un aumento del 12% rispetto allo scorso anno. Ad agosto, nei primi 15 giorni, si parla di 7.092 passaggi con un aumento del 30%. Ovviamente stiamo parlando di un dato parziale riferito solo a un punto di accesso al centro storico, un dato che poi non permette di distinguere tra turisti e non e non ci dice poi della ricaduta economica per il commercio. Vigente comunque in effetti se ne vista tanta e questo fa ben sperare, anche se leggendo i commenti di alcuni cittadini in risposta al sindaco su Facebook, le priorità per chi vive ad Arezzo sembrano legate soprattutto alla sicurezza e al decoro urbano, due temi su cui Ghinelli aveva vinto le elezioni. La schiera degli scontenti sotto questo punto di vista sembra aumentare di giorno in giorno.